Il trend l'anno scorso, anzi qualcosa di più, abbiamo integrato sul turismo straniero, turismo straniero però quest'anno è stato evidenziato dal nord Europa. Il trend tedesco ci è calato un po', questa sarà la crisi, sarà quello che sta portando avanti l'andazio a livello nazionale, però abbiamo tenuto abbastanza bene perché abbiamo avuto sempre il nostro trend sul fatto del turismo di qualità. Quindi più stranieri che italiani, ma italiani il turismo familiare ancora resiste qui da noi? Alla grande, alla grande. Io dico sempre che il turismo familiare è il nostro miglior biglietto da visita. Abbiamo avuto un discorso turistico alternativo con il tempo perché luglio ha fatto dei weekend spaventosi, però ci ha ripagato adesso agosto con delle giornate bellissime, anche con gli eventi collaterali che abbiamo intorno a noi e questo è importante. Ecco, la permanenza media su quanti giorni si attesta? Una volta si parlava dei 15 giorni, adesso si parla di 4, 5, 6 giorni, una settimana quel turismo ancora che tiene a livello familiare. I giovani ci sono, premiano Fano, c'è un turismo giovane che viene? Si sta svegliando, si sta svegliando il giovane perché c'è il discorso della base culturale che viene seguita anche dai giovani. Ecco, adesso il Sistema Museo vuole instaurare una convenzione con voi per incentivare i vostri ospiti a visitare il patrimonio culturale della città e anche di una mostra importante come quella di Leonardo. Quella di Leonardo è un bellissimo biglietto da visita. Io ho portato diversi stranieri e ci hanno detto che è una cosa, prima di tutto, unica al mondo. avere 5 disegni di Leonardo da Vinci che per 9 anni non li vedremo più è un bel biglietto da visita anche a livello pubblicitario per la nostra città.